Musica Bentornato Goodyear, bentornata Bene, proseguiamo questa sezione relativa alla modifica impostazioni PC Il successivo punto dopo PC e dispositivi è la sezione Account Cliccaci pure sopra dopo aver raggiunto la sezione impostazioni PC avendo aperto la Chance Bar Si presenteranno tre opzioni Il tuo account, opzioni di accesso e altri account Dalla prima opzione Visioni, il tipo di account attualmente in uso che nel mio caso specifico non è connesso a un account Microsoft ma è semplicemente un account locale Se vuoi o ti necessita, lo puoi collegare al tuo account Microsoft qualora ne avessi uno Puoi visionare ciò come spiegato nella lezione 137 e il rispettivo video tutorial Se ne possiedi uno, dovrai inserire il tuo indirizzo email relativo e la password collegata a tale indirizzo email e naturalmente proseguire con il wizard, il processo guidato Sempre nella sezione in corso puoi selezionare dal tuo disco rigido l'immagine che rappresenta il tuo account, in pratica il tuo avatar oppure potrai scattarne una se ci colleghi una fotocamera oppure potrai prelevarla dai tuoi contatti La sezione opzioni di accesso ti consente di inserire una password affanumerica dedicata al tuo account, inserire qualora fosse possibile una password grafica oppure inserire un PIN per accedere all'account Nel primo caso puoi semplicemente inserire una password Digitarla nuovamente e inserire anche un suggerimento che ti aiuterà a ricordarla qualora l'avessi dimenticata Se ti è possibile, come detto prima, potrai anche selezionare una password grafica oppure un PIN di 4 cifre per accedere all'account Infine, con l'ultima sezione, puoi gestire altri account Cliccando sul pulsantone Aggiungi account Potrai aggiungere un altro account per accedere a Windows Dovrai inserire l'indirizzo ML nel campo relativo per crearlo seguendo la procedura guidata oppure creare un account locale tramite questo pulsante se non volessi collegarlo ad un account Microsoft semplicemente poi inserendo nome e password Potrai anche, cliccando su questo pulsante aggiungere un account particolare per un bambino inserendo un indirizzo ML del piccolo oppure semplicemente nome utente e password cliccando su quest'alto pulsante Potrai in questo modo controllare le attività del bambino monitorandolo con dei rapporti oppure semplicemente attivando successivamente dei piani di sicurezza dedicati chiamati Family Safety Infine, potrai anche configurare un account con accesso assegnato con l'ultima sezione In pratica, tramite questo pulsante se al sistema operativo accenno diversi account puoi scegliere un account con cui potrai far avviare una sola applicazione quindi dapprima seleziona tramite questo pulsante l'account che dovrai collegare alla singola application una volta assegnata potrai selezionare una limitazione e quindi scegliere un'applicazione che potrà essere singolarmente avviata per quello specifico account e anche disconnetterla premendo 5 volte rapidamente il tasto che si trova tra CTRL e ALT quello con il logo Windows dopo aver scelto l'account potrai selezionare l'applicazione dallo store Eccoci, andiamo a fare un po' di pratica avviamo la nostra bella charms bar clicchiamo su impostazioni ed infine modifiche impostazioni PC e ora andiamo ad individuare la sezione account cliccaci sopra come puoi vedere il mio computer attualmente è provvisto di un account locale qualora tu volessi collegare un account a Microsoft sarà sufficiente cliccare su questo pulsante e avviare la procedura guidata inserendo indirizzo mail e password che tu già possiedi dopo di che cliccando su avanti portando a termine la procedura collegherai l'accesso al sistema operativo con l'account Microsoft ti ripeto potrai visionarlo come spiegato nella lezione 137 e video tutorial qualora tu non avessi un account a Microsoft potrai crearlo cliccando su questo pulsante appunto seguendo la procedura annulliamo e torniamo a questa sezione da questa sezione potrai scegliere l'icona l'immagine che ti rappresenta che rappresenta il tuo account di accesso se non hai selezionato un'immagine potrai scegliere all'interno del tuo disco rigido cliccando su pulsante sfoglia e individuarla oppure potrai collegare una fotocamera e scattare in tempo reale una foto o infine scegliere dai tuoi contatti altra sezione opzioni di accesso qui potrai impostare una password per accedere al tuo account sarà sufficiente digitarla due volte e inserire anche un suggerimento che ti aiuti a ricordarla qualora la dimenticassi oppure se previsto potrai anche aggiungere una password grafica o un PIN per accedere al tuo account infine nella sezione altri account potrai gestire i tuoi account quindi aggiungere un nuovo account con indirizzo email qualora una persona un altro utente potrà accedere a questo tuo computer sarà sufficiente inserire l'indirizzo email di questa persona inserendo un indirizzo con il suo relativo account Microsoft oppure potrai aggiungere un account bambino cliccando su questo pulsante nel qual caso potrai inserire l'indirizzo email del bambino che potrà avere accesso alle opzioni fornite dalla Microsoft oppure anche qui iscrivendolo con un nuovo indirizzo di posta elettronica o infine aggiungendo un account limitato senza indirizzo email con nome utente e password come per un account locale normale ricorda che in seguito tramite la sezione dedicata potrai impostare delle limitazioni per accedere al computer in pratica così facendo potrai monitorare le sue azioni tramite dei report oppure potrai creare un nuovo account locale inserendo dei parametri nuovi per una determinata persona anche qui ti richiede la possibilità di accedere tramite account Microsoft oppure account locale come visto in precedenza potrai semplicemente inserire nome utente e password con una ripetizione di un suggerimento portando a termine la procedura il wizard infine potrai configurare un account con accesso assegnato che significa se accedono diversi account potrai selezionare un account tra i vari evidenziati in questo caso c'è soltanto il mio account d'amministratore comunque qualora ne avessi più di uno potrai selezionarlo e da questo pulsante potrai scegliere un'applicazione a cui questo account potrà accedere in maniera univoca e singola ricorda che questa limitazione può essere eliminata semplicemente digirando per 5 volte rapidamente il tasto win quindi quello con il logo della microsoft bene continueremo nella prossima lezione ancora con questa sezione modifica impostazioni pc ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto